QB Academy La QB Academy è la scuola per imparare a costruire con i materiali naturali che avremmo voluto frequentare anche noi e che non esisteva fino adesso. Siamo partiti da tutte le nostre esperienze di questi dieci anni di corsi workshop per Asmus Plus. Ci abbiamo riflettuto insieme a te anche nei video precedenti, nella miniserie. Abbiamo provato a creare una scuola che fosse la nostra risposta per imparare a costruire con i materiali naturali. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto per creare la scuola è stata trovare un cantiere vero e trasformarlo in scuola. Come ti dicevamo, uno degli aspetti fondamentali per noi è provare a dare una continuità nel tempo ai workshop e agli apprendimenti che si fanno nella pratica. Per cui ci siamo dati un tempo di quattro mesi che ci è sembrato un tempo sostenibile per avere abbastanza occasioni per vedere fasi e tempistiche di un cantiere e contemporaneamente un tempo che fosse sostenibile e compatibile con la nostra vita, quindi con gli impegni, il lavoro e quant'altro. Quattro mesi di tempo per affrontare insieme quello che abbiamo definito il lato pratico della biodilizia. Tre workshop pratici in cui esplorare tecniche costruttive diverse con materiali naturali, a partire da quelli naturali e locali, quindi come la terra di scavo e le balle di paglia e unirli ai materiali naturali più convenzionali, quelli che si trovano più facilmente sui cantieri come ad esempio i pannelli in fibra di legno, i pannelli di fibrogesso o gli intonaci premiscelati. Quindi fare esperienza sia di un'architettura più vernacolare sia di un'architettura sostenibile più contemporanea ed industriale per arrivare poi ad affrontare tutto il mondo delle finiture. Oltre agli apprendimenti in cantiere, quindi a questi tre workshop, abbiamo pensato di unire e quindi di creare dei momenti di approfondimento più teorico che fossero comunque legati allo sviluppo di una competenza proprio pratica. Si svolgeranno online per rendere più leggera la parte formativa e ci occuperemo di approfondire appunto tutti gli aspetti progettuali legati ai materiali naturali. Oltre a tutto questo abbiamo pensato di organizzare anche una giornata che abbiamo chiamato la gita scolastica che possa essere appunto decisa insieme ai partecipanti e che possa integrarsi e quindi andare a completare, ad aggiungere valore al programma in corso. Dopo tutto questo è proprio per dare continuità all'apprendimento ai quattro mesi. Quello che ti offriamo all'interno di quest'academy è anche di seguirti personalmente attraverso il nostro servizio di consulenza qualora farai il tuo primo progetto naturale. Sappiamo che c'è sempre una difficoltà dopo che si è imparato a mettere in pratica quello che si è appreso. E questo non solo perché non abbiamo appreso bene, ma perché ovviamente la prima volta che sperimentiamo le cose che abbiamo imparato e le facciamo in autonomia abbiamo sempre qualcosa da aggiustare. Ecco, vogliamo essere con te mentre aggiusterai il tiro e adatterai gli apprendimenti alla tua situazione. La classe sarà formata da massimo sei partecipanti. L'abbiamo pensata questa QB Academy per tutte quelle persone che hanno veramente voglia di trasformare il loro lavoro e vogliono integrarlo attraverso l'uso di materiali naturali. Può essere che tu ti occupi di progettazione, quindi vuoi in qualche modo dare una direzione più naturale, più sostenibile, più ecologica, più quella in cui credi veramente, al tuo approccio progettuale. Oppure potresti voler lavorare in cantiere e quindi avere delle conoscenze in più che ti permettano di offrirti e di provare a proporre anche l'utilizzo di materiali naturali e non solo quelli convenzionali. Questa Academy è l'occasione per sperimentare in cantiere insieme a noi, per apprendere insieme a delle altre persone che diventeranno poi un po' anche il tuo gruppo di riferimento in futuro. Ce lo siamo immaginati anche come una specie di acceleratore perché ovviamente le nostre esperienze passate diventeranno anche le tue esperienze di partenza. Quindi quello che noi abbiamo già sperimentato, gli errori che abbiamo già affrontato e le soluzioni che abbiamo trovato a quegli errori diventeranno anche delle tue conoscenze da cui partire per sviluppare poi le tue soluzioni. Il motivo che ci ha spinto a creare la QB Academy, come il motivo per cui ci piace sempre metterci in gioco in workshop e corsi ed esperienze formative diverse, è perché ci piace l'idea di diffondere la conoscenza e l'uso dei materiali naturali, perché ci piace l'idea che sempre più persone siano competenti nel loro utilizzo e nella progettazione con questi materiali. Più se ne parla e più ci si forma e più si condividono esperienze di questo tipo e più sarà facile che questo tipo di edilizia, la biodilizia con materiali naturali, diventi davvero un modello di costruzione e non semplicemente una nicchia. Ci saranno più video di approfondimento, questo è solo il primo ed è quello di inquadramento generale di che cos'è questo grande progetto. Per qualunque tipo di domanda o curiosità ti aspettiamo via mail o nei commenti qua sotto. Nei prossimi video entreremo più nel dettaglio rispetto al programma e quindi che cosa faremo nei vari workshop, chi saranno i docenti e come si svolgerà l'intero percorso. Ci sentiamo prestissimo! Ciao!